E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il Morning Week Crypto, andremo a valutare tre notizie che ho selezionato per voi nella notte, dopodiché andremo a vedere i principali gainers e losers di CoinMarketCap e poi un rapido sguardo ai grafici per guardare un attimo quello che è successo nella notte, l'analisi tecnica della notte. Andremo più che altro a cercare conferme nell'analisi di ieri, vedere se quello che avevamo detto appunto si è verificato e quindi se non l'avete ancora visto vi invito a vedere anche il video di ieri perché è appunto la storia che continua e quindi è più utile tenendo traccia dei video. Se prima di partire però come sempre il mio invito è quello di lasciare un bel mi piace se questi contenuti appunto li reputate interessanti e iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati appunto sono contenuti time sensitive, vedete come il mercato si evolve molto rapidamente e quindi è l'unico modo per rimanere sul pezzo continuamente. Quindi il mio consiglio è quello di farlo, basta ghiacchere, partiamo. Partiamo dalla prima news, quella che appunto Google sembrerebbe appunto aver, anzi sembrerebbe ha, riattivato la possibilità di pubblicizzare exchange e wallet ai cittadini US. Ok? Questa è una cosa che appunto per molti può voler dire nulla perché non sono magari, non sapevano neanche l'esistenza del ban di Google riguardo appunto questi servizi, però in realtà su tutto il discorso Google e quindi anche YouTube e quindi tutti i servizi connessi non era possibile fare advertising riguardo al mondo cripto. Ok? In realtà dal 3 agosto Google permetterà di tornare appunto a pubblicizzare questi servizi, il che ovviamente vorrà portare la possibilità di far conoscere sempre di più il settore, di continuare a spingerlo anche su contenuti non per forza cripto e quindi capite bene la qualità di questa news che può portare sicuramente nuovi investitori. Allo stesso tempo comunque Google manterrà il ban sulle ICO, ok? Quindi non sarà possibile promuovere ICO e appunto finanza decentralizzata. Inoltre appunto sappiamo anche che Google non permette tutte quelle cose di segnali di trading, tutti questi servizi qui che anche secondo me, insomma è giusto che sia così perché sono la maggior parte ecco si rischia di far perdere soldi alle persone. Quindi su quello mi trovo a concordo e però innanzitutto molto bene per il discorso legato principalmente agli exchange che almeno dà la possibilità di avere un gateway di entrata. Per quanto riguarda un'altra news è quella di Ethereum che potrebbe addirittura raggiungere i 40.000 dollari nel lungo termine, questo è quello che dicono i gemelli Winkelboss. Per chi non sapesse chi sono, ma credo si sappia, sono i co-founder di Gemini che è uno dei principali exchange soprattutto in America, molto conosciuto. Loro praticamente, sapete anche la questione di Facebook, sono sempre loro, sono dei promotori di Bitcoin, del crypto da veramente tantissimo tempo, tantissimo tempo e appunto vanno loro stessi a parlare appunto di previsioni di prezzo dicendo appunto che per loro un prezzo target su Ethereum da qua a fine anno arriverà tra i 5-10.000 dollari e nel lungo termine potrà arrivare anche a 40.000 dollari. Questo perché? Perché c'è molto da costruire su Ethereum, c'è molto da fare, sicuramente Ethereum oggi rappresenta la prima chain legata a DeFi, legata alla sicurezza DeFi anche per questioni di hash power, di tutto quello che ne consegue, ora non stiamo a fare una cosa lunga su Ethereum però farvi capire che appunto le visioni sono queste e quindi non lo so, io non piace fare previsioni di prezzo così lungo termine però sicuramente se il settore continuerà a crescere come sta dimostrando di fare sicuramente potremo vedere degli ottimi risultati anche su Ethereum. L'ultima news è quella di Bitcoin appunto del breakout imminente perché appunto sembrerebbe, io vorrei arrivare qua, che gli istituzionali stiano acquistando, stiano facendo un po' il gioco fa vedere che è stato fatto nei precedenti drop, cioè durante appunto le ore illiquide, ok, alla fine di ogni mese sono stati venduti in maniera molto aggressiva ok, ci sono state vendite molto aggressive, perché il liquid hours, anche per dovuto al discorso delle scadenze delle option dopodiché si inizia appunto all'inizio di ogni mese ad andare a fare un buy continuativo di piccole quantità che riportano il prezzo, ok, da dove è partito quindi anche qui vi fa vedere appunto queste forme triangolari plan B appunto e vi fa vedere appunto dicendo ok, potremmo tornare a 56.000 dollari dovuto appunto a questo recupero, non lo possiamo sapere ovviamente, non possiamo saperlo in partenza, però sicuramente stiamo vedendo una reazione di prezzo che poi andiamo a vedere sui grafici. Per quanto riguarda appunto i gainers e i losers di CoinMarketCap troviamo 3 gamers, OKEX col suo coin OKB, più 26 con settimana più 19, troviamo Kusama, veramente infuocata Kusama perché sulla settimana fa un più 51 e un più 23, auction alle porte, attenzione a tutto l'ecosistema Polkadot ragazzi perché è da un po' che viene messo da parte, non se ne parla più tanto ed è proprio in quei momenti che si trovano le ottime occasioni però ovviamente no financial advice, no consigli finanziari, non acquistate Polkadot e Kusama perché adesso vi sto dicendo questo però da tenere in piena osservazione, molto bene. Phantom più 22, bene anche lui. Curva più 21 con un più 58 settimanale, molto bene ottimo protocollo DeFi Curva, attenzione perché è ottimo davvero il protocollo. Cosmos più 19 e Solana più 18 che recupera abbastanza velocemente anche se è un nome molto caldo, Dogecoin più 19, Waves, Polkadot e via dicendo quindi ottimi recuperi in realtà in doppia cifra. Di Losers non troviamo niente di rilevante, sono normalmente un meno 1,60 di Amdex Riven meno 0,9 e poi abbiamo le stable, quindi direi che è un mercato in ottima ripresa nelle ultime 24 ore. Andiamo a vedere però quello che sta accadendo sui grafici perché Bitcoin ha fatto esattamente, esattamente quello che ci siamo detti ieri quindi io sono veramente molto contento per chi è riuscito a avere pazienza nel video di ieri e a osservare molto bene quello che è accaduto perché è stato esattamente millimetrico, ovvero mi ha avuto il break in questo momento del triangolo ho detto, lo trovo da vedere, appunto aspettiamo un ritest perché questo sarà il nostro entry point per poter avere un ottimo trade e in realtà è stato confermato nelle ultime 4 ore, ottima move quindi complimenti davvero a chi l'ha preso, è merito vostro, ovviamente non è merito mio, come sempre così come se si perdono soldi è colpa vostra, non è colpa mia, ok? Quindi mi raccomando siete voi a premere buy, siete voi a premere sell, però ottimo, ottimo impulso perché state già realizzando un più 4,38 su Bitcoin da manuale, quindi il triangolo è stato direi rispettato ora ovviamente dobbiamo avere ulteriori conferme perché i target price sono molto elevati, ok? però si può gestire la posizione in trend follower, ok? fondamentalmente aspettare eventualmente se uno non si fida di questo movimento un ritracciamento al di sotto di questa zona qua, almeno dei 38 di quest'ultimo top se l'entry point è stato qua per andare appunto a prendere il proprio take profit o chiudere la posizione se non ci si sente confident, però per il momento sembrerebbe appunto confermato il break almeno nella parte zoomata del grafico, ok? quindi dobbiamo avere ulteriori conferme, però per il momento direi che si sta dimostrando un ottimo entry point un po' da manuale e vedremo un po' come va nella giornata, appunto approfondiremo questa sera per quanto riguarda la total market cap ci riportiamo a 1.71 trillions primo, primo zona da recuperare in maniera veloce e ottima sarebbe gli 1.76 trillions, ok? e ci metterebbero appunto a fare un massimo più alto di questo qui per andare poi ad attaccare gli 1.85 a quel punto non avremo più nulla, più o meno, fino agli 1.90 e 2 trillions, ok? quindi l'obiettivo 2 trillions rimane sotto gli riflettori perché sarà quello che ci porterà a dare appunto maggiore confidenza a tutto il settore e far vedere che in realtà i soldi non stanno scappando dall'eclitto ma stanno continuando a entrare, stanno tornando a livello di market cap lo vedete, ne abbiamo parlato ieri non abbiamo continuazione rialzista, abbiamo continuazione bearish perché? Perché non siamo riusciti a invertire il trend abbiamo ritracciato completamente il movimento rialzista abbiamo fatto un high più basso ovviamente al precedente e abbiamo continuato il ritracciamento perdendo l'ultimo low ok? quindi anche la dominance dà segnali importanti ragazzi io mi fermo qui, non vado lungo la mattina lo sapete ci vediamo questa sera per l'analisi tecnica vedremo un po' come va la giornata per il momento sembrava una giornata molto carina molto interessante, stiamo avendo delle conferme però appunto dobbiamo aspettare ulteriori dati per avere maggiori garanzie ragazzi ancora una volta una buona giornata a tutti ci vediamo questa sera ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale con un clic sulla campanellina ciao a tutti